Questo è il circuito di Spa in Belgio, facciamo il giro Cameron Board, questo è il rettilineo del traguardo, poi arriviamo subito a una curva di 180 gradi, una curva molto stretta di prima marcia. Poi ci sono adesso più o meno 20 secondi di piena accelerazione con la famosa curva All Rush in mezzo, che è questa curva in salita che facciamo in questo momento, una curva in settima marcia facile in pieno, più o meno a 300 km all'ora, e poi continuo questo rettilineo per lungo tempo fino alla curva numero 5, come dico più o meno 20 secondi in pieno acceleratore, arriva la curva 5, 6 e 7, è una triple chicane più o meno, prima destra, sinistra, adesso destra, in quinta marcia, molto veloce, più o meno a 220 km d'aria. Poi arriva la curva 8, è una curva in dicesa, molto lunga a destra, qui andiamo più o meno a 160 km d'aria, subito a sinistra, in dicesa, tutta questa zona, per arrivare alla curva 10 e 11, una curva anche in dicesa, molto veloce a sinistra, più o meno a 280 km d'aria, quindi una delle curve più veloci del campionato. Poi arriva una chicane, destra-sinistra, in quarta marcia, più o meno a 220-230 km d'aria, quindi anche questa è una zona molto veloce. Poi una piccola dicesa per arrivare a due curve a destra, questa è la curva 14, che usiamo tutto il cordolo esterno, e poi la curva 15, che la facciamo in pieno, l'accelerazione, perché adesso arriva un altro rettilineo molto lungo, che è tutto questo, che poi finisce all'ultimissima chicane. In questo rettilineo c'è questa prima curva sinistra, Blanchimont, ma senza problemi in pieno. Poi, come dico, l'ultima chicane, molto lenta, in seconda marcia, prima a destra, poi a sinistra, poi subito il traguardo, quindi circuito di altissime velocità, di curve molto molto veloce, e di rettilinei molto lunghi, quindi circuito uno dei più completi di tutto il campionato.